Sul progetto di trasferimento da Piazza Iacona a Via Rochester degli uffici UNEP, che si occupano di notifiche di atti ed esecuzioni di provvedimenti, è intervenuta la Presidente della Corte d'Appello, Maria Grazia Vagliasindi, la quale ha spiegato che tale trasferimento deriva da una direttiva ministeriale. L'alto magistrato però ha affermato che nessun trasferimento verrà effettuato se non verranno garantite al massimo tutte le condizioni di sicurezza. La nuova sede designata degli uffici di Via Rochester è ospitata in un bene confiscato e destinato al settore giustizia. Dunque gli uffici giudiziari non pagherebbero nemmeno alcun canone di affitto, a differenza di quanto accade con la sede attuale per un costo di 61.000 euro annui. La sede di Via Rochester è attualmente in ristrutturazione e, come spiegato dalla Presidente Vagliasindi, gli interventi sono stati definiti anche con la partecipazione del personale. Nei giorni scorsi i dipendenti alcune organizzazioni sindacali avevano criticato la scelta, chiedendo invece che gli uffici UNEP venissero spostati al quarto piano del Palazzo di Giustizia, una volta che la procura si sposterà nella nuova ala in fase di realizzazione. L'interesse dell'amministrazione è unicamente quello di realizzare un risparmio di spesa, considerato che noi per quei locali corrispondiamo oltre circa 61.000 euro come indenità di occupazione annua. Però l'obiettivo privilegiato è la Presidenza della Corte, che ovviamente esegue direttive ministeriali, quindi agito sulla base di una determina ministeriale, è sempre quello del benessere del personale. E soprattutto il metodo è un metodo partecipato. C'è stato un sopralluogo alla presenza del personale. Se il personale e teme delle criticità, che non possono esservi in sede di sicurezza, perché sono garantite dai tecnici competenti e nessun trasferimento ci potrà essere, laddove non siano garantite appieno le esigenze di sicurezza. C'è la massima disponibilità di questa Presidenza al confronto, che già è stato chiesto al Ministero della Giustizia, anche su piattaforma telematica, ma soprattutto quello che è importante mettere in evidenza è che non si può consentire che a fronte di spazi inutilizzati e anche su piattaforma telematica.